Mamma, padre che cuoca, oh! Ma che è? Eh? Perché devi cucinare in questo uomo, scusami? L'ho capito, eh? Oh! E invece amici miei, cambiamo totalmente scenario. Questo sapete chi è? È Santiago, che è nato a lavorare da Gleip. Kind of, nel senso che lui in realtà non lavora proprio. Ha preso questa sorta di carrello elevatore e lo usa come monopattino in giro per gli uffici di Gleip. Intanto fatemi dire che sono contentissima perché sono strutturati bene, hanno questo open space, questa sorta di loft enorme dove c'è un po' di tutto e Santiago si diverte a distruggere tutto il setting, a quanto pare. Poi chiudiamo invece questo video con il nostro Ignazio Moser, splendido questo ragazzo, non solo perché è un bel ragazzo ma perché è molto dolce con Cecilia, si fa i capelli. Eccolo qua, prestante, un bacione ciao! Ciao!